Ok, avviata. Perfetto. Ecco, direi che possiamo cominciare. Buongiorno Antonio, buongiorno Professor Angiorillo, grazie di aver aderito a questo ciclo di conferenze che ho voluto organizzare anche online, partendo da Porto, per studiare in Girettù. Credo che sia un'occasione interessante perché Porto rappresenta un episodio singolare nello scenario della tradizione architettonica, ma soprattutto rappresenta un episodio singolare nel campo delle tendenze contemporanee, quelle almeno che hanno interessato la seconda metà del secolo scorso nell'architettura in Europa e diciamo così anche forse nel mondo intero. Quella scuola di Porto per cui appunto gli architetti di quella città sono famosi in tutto il mondo degli architetti e non solo. Ma per introdurre questa conversazione con Antonio Angiorillo io vorrei rubare le parole a quel Fernando Tavora, che era stato un po' forse l'architetto che aveva iniziato questo processo di rinnovamento a partire dal suo Encheiro, la sua inchiesta sulla casa rurale in Portogallo e che a partire da quella, da quella indagine, poi si sono formati una serie di allievi che rispondono a nomi che ormai tutti quanti conoscono, Alvaro Siza e Edoardo Souto dei Mure per citarne i due principali. Fernando Tavora diceva, in uno suo scritto abbastanza bello, «Lo spazio urbano portuense, la città di Porto, rimase perfettamente definita nel 1895. Il mare, il fiume, la circonvallazione, un nucleo centrale di antica fondazione che si prolunga all'interno, lungo strada e cammini, è qua e là, piccoli nuclei periferici, piccoli villaggi, con la loro chiesa, il loro sagrato, la loro strada, la loro mentalità». Una sorta quindi di città policentrica, potremmo dire noi. Tre aspetti fondamentali si trovano, così crediamo, continua Tavora, alla base dell'organizzazione spaziale portuense, le condizioni naturali, il tipo di popolamento delle zone periferiche e la mentalità degli uomini di Porto, aspetti che è impossibile separare completamente perché si compenetrano in tale maniera che soltanto la necessità di analizzare gli eventi può giustificarne la separazione. Quanto al primo aspetto, gli elementi naturali, è facile riconoscere, fra molti altri, la forma contrastata e a volte agreste del suolo su cui riposa la città. La costituzione del suolo stesso, con abbondanza di granito che talvolta fiora in modo magnifico e brutale, e ancora il livello di piovosità che giustifica in parte questa umidità, così insistentemente portuense, che tutto penetra. Tali elementi giustificano in parte una certa durezza, a volte rude, del nostro spazio, una certa forza della nostra architettura, una certa potenza di grandi allineamenti retti nelle nostre strade. Una certa area pittoresca dei nostri scorci urbani, così perfettamente ritratti nelle cascate spopolari, una sorta di presepia di atmosfera popolare in cui scorre un corso d'acqua. Una certa tonalità scura, umida e triste, una vegetazione ricca che si sviluppa senza ostacoli, crescendo dove vuole e come vuole. Il tipo di popolamento delle zone periferiche crea, per sua natura, per la dispersione che la regola, le frequenti interruzioni del nostro spazio urbano, dove ad ogni gruppo di case si succedono campi, in cui da una zona urbana è possibile osservare lavori agricoli, dove le strade si aprono su grandi prati, che chiameremo parchi se non sapessimo già prima che si tratta di fattorie. Con queste parole volevo introdurre questa conversazione con Antonio Angelillo, che gentilmente da Gorizia ci dà il suo contributo per il nostro ciclo di conferenze. Ecco, Antonio. Sì. Ci sono delle persone che vogliono entrare, ma... Sì, però a me se le sta per mandare il link... Quando io sto parlando ho qualche difficoltà a rispondere alle persone che vogliono entrare. Questo è il guaio. Va bene. Va bene, vai avanti. Va bene, allora ho accettato volentieri questo invito da parte del professor Aldolino. Devo dire che ovviamente non mi sorprende parlare del Portogallo, perché mi è capitato spesso di parlarne, di partecipare a incontri, negli anni passati. Comunque, il Liani Massima, per quest'oggi, io avevo preparato una specie di... Possiamo dire di discorso così più generale. non è una vera e propria conferenza, piuttosto una testimonianza, diciamo, di quello che ho vissuto quando ho incontrato questa città e soprattutto quando ho incontrato gli architetti che questa città la stavano costruendo sostanzialmente e che da quell'incontro mi è venuto fuori una serie di convinzioni che fanno parte del mio bagaglio culturale che mi hanno formato, no? Per cui all'epoca mi sono recato, nell'88, con una borsa di studio del Ministero degli Esteri, una borsa di studio per fare una ricerca sull'architettura contemporanea portoghese, diretta da Vittorio Gregotti, e veni accolto appunto in questo ambiente molto positivo, erano un gruppo di architetti, che poi sono quelli che conosciamo tutti ormai, tutti intorno, ruotavano attorno alla figura di Tavora, che era il maestro della scuola, il direttore, ma anche il maestro, il maestro di Sisa, ma di tutti gli altri, di questa generazione, che adesso ha un'età di circa 80 anni, e che ha fatto la scuola, di fatto ha fatto questa cosiddetta scuola di Porto. Mi sono trovato in mezzo, praticamente, a questo gruppo, ho vissuto per un anno con loro, è un gruppo di persone, soprattutto sono un gruppo di amici, erano un gruppo di amici, anzi, anche parenti tra di loro a volte, con delle ottime relazioni, e avevamo costruito un senso quasi di comunità. Per cui questi argomenti che vi sto trattando, in qualche modo nascono da quell'ambiente, e per quello che io chiamo testimonianza piuttosto che conferenza, perché è un modo di raccontare una storia del tutto personale, del mio punto di vista, di questo incontro con la città. Da quell'incontro ne sono nata una serie di pubblicazioni, una per tutte, questa di Casabella, un numero del, mi pare che sia del marzo del 90, che riportava in qualche modo in copertina questi oggetti che mi hanno veramente sorpreso. Io ho tra le mani, avevo raccolto le foto originali del, molte foto originali che abbiamo selezionato, del, relative all'incherito. All'incherito, cos'è l'incherito? E' stato un momento topico, diciamo, che ha sviluppato il modo, il rapporto verso l'architettura di quella generazione. E' anche per quello che Gregotti ha voluto mettere la scelta tra le tante foto come una foto emblematica dell'architettura contemporanea in Portogallo. Ma perché quella immagine, perché quella potenza di quell'immagine evocativa? Perché, alla fine, c'è un rapporto quasi solidario tra gli architetti e il mondo della costruzione. E il mondo della costruzione, lì, è l'uso di una materia, che è il granito, che è diffuso nell'area che voi vedete, dipinta di rosso, rosso e rosa qui, rosso. Nella zona centrale, diciamo così, centro-nord del Portogallo, ma che comprende pure la Galizia. una terra molto diversa tra nord e sud, come si può vedere, il sud e l'alenteggio, e il nord e il sud. E' un terreno molto più suave, l'alenteggio, la parte della Galizia e del nord del Portogallo, invece, è molto più aspro, molto più forte, più duro. Quello che diceva, per esempio, Tabor era questo, porto e maschio, Lisbona è femmina. Come dire che Lisbona è molto più dolce, è un terreno molto più friabile, si tratta di calcari, diverse natura, eccetera, mentre Porto è granitico. Come il Porto, in realtà, tutta l'area nord, che è una sorta di grande sistema che ha sviluppato, se vogliamo, anche, ha connotato una modalità di rapporto con la costruzione. Perché? Perché questa piattaforma granitica arriva sostanzialmente fino al mare, dalle colline, non sono colline particolarmente alte, ma sono abbastanza impervie, e soprattutto, con grandi difficoltà, sono state anche abitate. Mentre abbiamo, per esempio, i primi insediamenti del megalitico che si trovano anche e soprattutto nel sud, dove abbiamo degli esempi famosissimi, molto importanti, come i Cromolec, che sono dei dolmen, d'epoca appunto megalitica, che sono tra i più importanti complessi europei. Questo si trova vicino a Evora. C'è tutta un'indagine archeologica che ovviamente adesso non vi è spiego, ma che ha a che vedere molto con i percorsi e anche alcune credenze che sembra abbiano attraversato un periodo storico dell'umanità e che comunque vedono in questi monumenti ormai noti dei segni significativi nel paesaggio, come in questo caso il paesaggio del lenteggio, che è molto più dolce. Ma abbiamo, per esempio, anche tra i primi sistemi triditici ritrovati nella penisola iberica. Questo è appunto l'orca di Rappadouro di Pendiglie. E vediamo, ecco, volevo presentarvi questo piccolo villaggio che si chiama Monsanto, Monsanto, che si trova penso nella zona di Beralta, comunque molto vicino a Serra d'Estrela, quindi la parte più arroccata del Portogallo, la parte più interna, quella verso la Spagna, zona nord-est circa, è costituito di che sembra un insediamento di origine elettrica che, secondo alcune informazioni ancora tutte da controllare, sostanzialmente è un villaggio che ha resistito l'insediamento romano addirittura. Ed è rimasta comunque una fortezza importante in epoca romanica perché appunto ospitava un punto importante dell'ordine dei templari, un punto di controllo del territorio perché i templari hanno sostanzialmente costruito il Portogallo partendo dal nord da questa zona rocciosa e scendendo verso il sud. Il regno del Portogallo nasce proprio in questa zona qui, zona di Guimarãncio soprattutto, ed è spettacolare diciamo questo villaggio proprio perché rimane con un sistema costruttivo anche appunto romanico basato sul taglio del granito vedete creando delle forme che nascono sostanzialmente dal terreno perché il materiale scavato lì ricavato dalle cave locali questo è la chiesa di San Michele il villaggio è arrivato ai giorni nostri esistono ancora molti abitanti che ci vivono ed è arroccato in questo sistema roccioso della della vera alta come potete vedere questa è la porta della porta del castello ecco un altro villaggio un'altra zona interessante è quella del Migno dell'Alto Migno tra Transomontes sempre nella zona di crocio incontro con la Spagna questi sono gli Spigneros cioè sostanzialmente sono dei dei depositi di grano che vengono sospesi per evitare che dei mammiferi possano in qualche modo intaccare il raccolto nell'Alto Migno e costituiscono come una sorta di sistema diffuso che segna in qualche modo e puntualizza i punti più alti del territorio noi lo troviamo all'Indoso ma un po' anche in Galizia diffuso anche in Galizia questo sistema questo è vicino a Viseu a Pindiglie e l'altro invece è a Carvaleda da Via vicino in Spagna però tenete presente che questa zona tra il nord del Portogallo e Spagna sostanzialmente si assomiglia sia come lingua che come cultura e come rapporto col territorio cioè non c'è una grande differenza è sostanzialmente celtica e poi vediamo come il granito viene usato in mille modi in termini costruttivi di sostegno soprattutto come piedritto perché ovviamente il granito resiste ai carichi di punta un po' come il cemento armato questo è il lato positivo non è propriamente una pietra che si o il mattone ma è una materia molto più resistente e questo è diciamo così se vogliamo il segreto con cui dopo vediamo tutto quanto la costruzione e l'edilizia si riesce a realizzare attraverso il granito perché di fatto è molto resistente resiste agli anni resiste agli incendi resiste resiste sostanzialmente a tutto per cui legno e granito è un po' il modo con cui si è costruito tutta la zona rurale del Portogallo come potete vedere qui ma anche i ponti tutto Sesto vediamo altri villaggi e poi il tamponamento viene fatto in legno sostanzialmente legno spesso anche questo si nota molto nella zona della Galizia attraverso sempre il granito si sono fatti monumenti cioè fino al 700 all'800 praticamente c'è stata una continuità costruttiva con l'uso del materiale locale tutto granito fino alla modernità c'è una continuità straordinaria scusa Antonio si ci sono alcuni piñeros che hanno la croce in cima si e cosa significava quella croce in cima? eh guarda il significato immagino sia di tipo religioso ma più come una sorta di benedizione non non ha un valore sono sempre cipiniero ci sono sempre depositi di grano non erano molte edicole funerarie no? no 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 non sono dei cimiteri anche se apparentemente potrebbero significare qualche cosa ma non lo sono ecco dicevo che tutto questo territorio sostanzialmente usa ha usato il granito sfruttando al massimo le pendenze perché ovviamente sono tutti territori che sono prevalentemente con orografia accidentata e quindi ogni sistema di trazzamento viene gestito attraverso appunto i muri in granito che appunto formano queste valli che inducono anche una speciale caratteristica climatica che rende possibile la maturazione dei vitigni anche abbastanza presto questa è la zona che voi vedete questo è il Portogallo abbiamo il fiume Tago tutti questi fiumi provengono dalla Spagna più importante è il Tago che poi crea nella foce un mestuario che è il Mar della Paglia dove sorge Lisbona però attraversa tutto il Portogallo però abbiamo anche il Mondego che passa per Coimbra abbiamo ovviamente il Doro che passa per Porto e abbiamo il Migno che invece va da confine per alcuni tratti e poi arriva sostanzialmente il Lima anche a Viano del Castello vedete che appunto tutti questi monumenti sono stati costruiti sulla base del sistema granitico questo è un santuario che si trova a Ponto da Barca sul Migno questa è una bellissima città che si chiama Ponte del Lima sono in alcuni casi proprio medioevali città rimaste medioevale vi dico quando io le ho vissute non ci arrivavano almeno le strade statali cioè erano strade sterrate praticamente non c'erano autostrade e questi posti erano autentici cioè mantenevano la cultura tradizionale locale e non era ancora arrivata tutta l'internazionalizzazione per cui effettivamente le strutture erano per esempio i ponti funzionavano ancora come ponti stradali non c'erano i ponti moderni non c'erano le autostrade e quant'altro allora è chiaro che è stata come un'immersione nel passato dove il granito era tutto praticamente tutte le città tutte le strade era tutto fatto in granito ma anche quando si sono fatte le autostrade proprio per via che le cave erano talmente gestite bene all'epoca nel senso che ovviamente era il materiale principale che addirittura pure i grandi cantieri e anche i cantieri autostradali usavano il granito i muri delle autostrade vengono fatti in granito non in cemento armato perché il granito costava di meno le travi erano in granito perché il cemento armato costava troppo quindi anche le case si facevano ancora in molti casi in granito da cui leggiamo appunto questa qualità diciamo così in più che è legata alla presenza del granito che costituisce parte diciamo integrante di una di una cultura locale della costruzione delle cose la cultura materiale proprio che è una caristica determinante e che ne determina ovviamente anche la visione complessiva dei paesaggi fino ad arrivare a Porto a Porto e allo stesso modo come dice appunto come diceva il Fernando Tavor è una città maschia è un maschio è dura difficile bucare è stato difficile fare anche la metropolitana Lisbona ce l'ha dagli anni 50 o Porto è riuscito a farla solamente negli ultimi anni perché il sottosuolo era tutto granitico e quindi a costi elevatissimi con problematiche notevoli ovviamente tutta la città giace su un sistema granitico e quindi anche tutto il sistema altimetrico non è come dire non è stato possibile addolcirlo in qualche modo e anche le strade sono strade ripide e così come le differenze di quota come si può vedere queste immagini dove le case appunto spesso sono a strapiombo su delle valli la città poi ovviamente si è sviluppata era una roccaforte importante anche appunto le mura stesse fatte in granito e il sistema di difensivo era molto importante per cui la città diciamo così che io sappia se ho ben ricordo non ho mai avuto alcun tipo di invasione non è stata mai occupata proprio perché aveva questa capacità difensiva legata alla qualità del materiale e veniamo per esempio alla ribera questa quella zona non so se siete già stati a porto è una delle zone più futuristiche più caratteristiche come potete vedere anche questa parte del porto antico è tutto una grande sistema di arcate a cui si può accedere e che rendeva possibile il deposito interno proprio e come basamento del sistema poi abitativo che c'era sopra e anche in questo caso abbiamo un grande basamento granitico così come appunto il sistema di risalite meccaniche necessarie evidentemente cosa che è stata fatta recentemente ma necessarie perché appunto abbiamo delle forti differenze di quota come si può vedere con due ponti meravigliosi uno di questi progettato da Eiffel ponte ferroviario che è diventato anche museo è stato museo esifato perché è un bene culturale importante come immagine e patrimonio della città l'altro elemento importante è l'uso del colore delle piastrelle come potete vedere le azuleggios a rivestimento perché ovviamente è una città umida con una pioggia che arriva a forte velocità con venti molto forti che colpisce anche le abitazioni da tutti i lati quindi era un opportuno rivestirlo semplicemente molte zone appunto non dappertutto molte molte case vengono rivestite con le piastrelle le azuleggios proprio per evitare problematiche appunto di umidità delle case interne e dell'intonaco un altro elemento utilizzato è l'ondulato metallico come potete vedere questo è molto più recente faccio questi esempi perché poi vedrete come alcuni architetti li hanno utilizzati o i materiali proprio ad uso locale anche se sono poveri e poi la cosa interessante sono questi interazzamenti un po' abbandonati perché ovviamente questi erano delle case che sono crollate però il sistema diciamo così costruttivo quello che tiene insieme l'interazzamento basato su muri di granito ancora sussiste e ovviamente la cattedrale non poteva essere che in granito come potete vedere qui sta sbucando un pezzo di un progetto di tavola un progetto fatto nel 2000 intorno all'anno 2000 che doveva essere una sorta di edicola turistica cioè un punto informativo turistico che poi venne deciso diventare fosse diventato che venisse attrezzato più che altro a piccolo museo o comunque a memoriale della fondazione sostanzialmente del regno di Portogallo infatti è tutto un sistema celebrativo appunto legato alla fondazione del regno di Portogallo eccolo qui questo è un cubo praticamente proprio di fronte alla cattedrale con l'ingresso e vediamo come anche in questo caso la pietra viene usata sostanzialmente con lo stesso taglio la stessa dimensione della cattedrale è una scelta proprio progettuale quindi come avete capito Tavola è stata una figura importante per il Portogallo lo vediamo qui dentro nella riunione di Ciam assieme a Gropius assieme a Le Corbusier lui era rappresentante è stato rappresentante portoghese del Ciam è stato inviato già giovanissimo lui era allievo di Carlos Ramos o Porto e la scuola di Porto una piccolissima scuola presente dentro la scuola di Belle Arti quindi non era propriamente dentro un ambito universitario ma dentro un ambito artistico nella scuola di Belle Arti infatti si disegnava moltissimo e questa è una caratteristica tipica di tutti gli architetti di Porto la capacità di disegno di rappresentazione soprattutto di rilievo di disegno e rilievo di memorizzazione dei contesti questa è una caratteristica che appunto come sapete ha dato un po' una caratteristica importante che ha dato ha configurato parecchio l'immagine della scuola di Porto questo a fianco è uno dei suoi primi progetti è una sorta di manifesto la modernità assieme al granito come potete vedere assieme al sistema articolato topografico articolato allora questa cosa è un po' possiamo dire un punto di svolta del Portogallo cioè il fatto di riconoscere da un lato la modernità dall'altro la storia la storia e la cultura costruttiva antica cosa succede negli anni 40 e negli anni 50 un po' l'interpretazione dei testi di Heidegger sull'abitare un po' gli studi di Siegfried Gideon Spazio Tempo Architettura che poi vengono recuperati l'interno lui ne parla all'interno dei Ciam degli incontri dei Ciam cioè mettono in crisi di quest'idea che la lettura sia qualcosa che viene idealizzato costruito come modello e poi calato ovunque grossomodo per essere molto sintetici e si ribalta in qualche modo l'interesse verso come lo si inizia a comprendere che il luogo non è una tabula rasa ma che esiste un contesto e che da questo contesto si deve apprendere per capire come trasformarlo e nasce da qui da questo primo dopoguerra questa esigenza che porta poi una generazione sostanzialmente di architetti a occuparsi ma anche di antropologi di occuparsi dei territori dove abitavano si attiva una quantità di ricerche in tutto il mondo anche in Italia per dire dove nasce anche questo concetto in Italia nasce questo concetto di preesistenza penso il neologismo fondato inventato per la prima volta se non ero proprio da Nathan Roger direttore di Casabella negli anni 50 e quindi si avviarono una serie di studi sul territorio da qui nacque questa idea di paesaggio esattamente come lo intendiamo oggi noi architetti notevole è proprio lo scritto di Vittorio Gregotti in un capitolo all'interno dei territori dell'architettura che ne è presente questa idea dell'antropologiografia del paesaggio cioè l'idea che è l'uomo e la sua costruzione che la sua costruzione del suo ambiente la trasformazione dell'ambiente attraverso dei principi insediativi che in qualche modo connota quello che noi vediamo oggi e che in qualche modo è patrimonio e bisogna interagire con questo patrimonio motivo per cui nasce una quantità di studi uno per tutti appunto a questo incherito sovra architettura popolare in Portugale in cui parteciparono voluto se vogliamo anche se vogliamo in parte finanziato dal governo che come sapete era un governo un regime fascista di Salazar che a partire dagli anni 40 45 47 avvia un percorso che porterà i finanziamenti e poi l'organizzazione di una ricerca che dal 55 al 61 anno in cui è stato pubblicato poi la ricerca porterà una quantità di giovani architetti delle scuole di architettura di Porto Lisbona ce ne erano due a indagare tutto il territorio portoghese assieme anche a antropologi sociologi che con cui avviavano dei rilievi che poi venivano anche fotografi che poi venivano organizzati in schede che era una sorta di possiamo dire catalogo dei principali tipi edilizi e costruttivi che esistevano all'epoca a livello popolare questa è una sequenza di fotografie l'incherito tra questi giovani docenti delle scuole c'è Keldamaral che era che della scuola di Porto e tra questi c'era anche Fernando Tavora ora queste qua sono alcune queste sono alcune immagini di quello che erano i risultati fotografi è chiaro che oggi come oggi questi luoghi sono molto modificati vedete gli spieghiere sono qua vicino al castello praticamente sono sono i depositi dei raccolti di grano o di mais che devono essere in qualche modo protetti più protetti più ancora delle abitazioni sono molto in alto e c'è anche appunto un catalogo dei materiali tra cui appunto il granito perché siamo nel nord altrimenti avremo altri materiali e poi come questi vengono tagliati e le caratteristiche poi con cui vengono organizzati i spazi esterni i tipi tipologia anche i tipi di scale e quanto altro e anche le parti esterne tutti i sistemi costruttivi dell'epoca e questo invece è un esempio del sistema costruttivo del sud fatto a mattoni sostanzialmente perché ha un'antica tradizione storica araba sostanzialmente ma sono molte i mattoni quindi uso dei monoliti praticamente con sistemi trilitici di costruzione come quello che vedete che poi si scopra essere molto razionalista per certi versi cioè la scoperta di tutta questa grande operazione è che alla fine i metodi costruttivi regionali locali erano essenziali minimalisti quasi diciamo razionalisti anti-litteram motivo per cui si sposavano perfettamente con l'immagine del movimento moderno dell'epoca che tendeva proprio a ridurre l'ornamento a zero a non aggiungere simbolismi e a lasciare il più possibile a lasciare il più possibile una lasciare il più possibile una una certa libertà anche di utilizzazione degli spazi come in questo caso appunto la parte bassa e la parte alta spazi molto liberi interni mentre il resto quello che era possibile farlo in legno allora questa diciamo questa scoperta quasi di una razionalità intrinseca nell'architettura popolare viene in qualche modo recuperata da Tavora Tavora ovviamente parlo dell'ambiente attorno a Tavora ma lui in particolare il quale scusate io voglio spegnere questo cellulare perché non se ne può più cioè sono tutti quelli che cercano di collegarsi al nostro incontro ma il link non funziona quindi purtroppo bisogna dirgli che devono sentirlo indifferita non ci sono alternative purtroppo al momento dicevo quindi che una delle prime esperienze progettuali di Tavora importanti che aveva fatto già le case ma di fatto è la il lavoro fatto nella Quinta del Consensau è una città vicina a Oporto Mattosino è una città di una città operaia sostanzialmente di pescatori di di aziende di trasformazione del pesce sostanzialmente ma anche città produttiva un grande porto quindi che aveva bisogno di un parco quindi viene incaricato per la costruzione del parco proprio Fernando Tavora e lui cerca di tradurre questa questa esigenza diciamo questa esigenza di rapportarsi con l'architettura popolare utilizzando il granito evidentemente per i trazzamenti ma in modo moderno cioè dialogando per esempio con una modalità di recupero dei resti esistenti come le fontane e portali utilizzandoli quasi in modo scenografico diciamo così né più né meno di quanto si faceva in Italia proprio in quel periodo l'Italia è sempre stato un riferimento per il Portogallo anche per la Spagna ovviamente e per esempio nelle opere di recupero del dopoguerra dei monumenti come nel caso del Palazzo Rosso di Genova di Albini e anche altre opere di Albini Albini è stato un grande riferimento proprio in quanto direttore di Casabella nel dopoguerra ma soprattutto per le sue opere che erano esemplificative di un processo di 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 rapporto verso un minimalismo quasi misiano ma interpretato in termini del tutto personali e anche Scarpa è stato poi un riferimento voglio dire che la cultura italiana ha avuto un gran peso e quello che succede diciamo così ovviamente è che certi tipi di approcci si si mischiano un po' si copia un po' si scoprono cose nuove e questa introduzione un po' dell'Italia un po' c'era stato anche un gran depeso dei paesi del nord come per esempio Alvaralto le opere di Alvaralto erano molto noti all'epoca per quelle che si pubblicavano di più così come si pubblicavano parecchie le opere inglesi Erskine eccetera per cui c'è stata una grande influenza diciamo anche perché il Portogallo non era il centro del dibattito era molto periferico era difficile arrivarci c'era un problema di isolamento anche di tipo politico era tutto orientato verso le colonie diciamo che l'architettura moderna ha avuto come nucleo importante proprio la scuola di Porto meno quella di Lisbona e ha mantenuto le radici forti proprio perché c'era un interesse da parte dell'elite culturale locale di avere una scuola importante di architetti che in qualche modo potessero gestire anche degli incarichi di piccola natura diffusi all'interno del nord del Portogallo proprio grazie a una certa ricchezza accumulata per le attività produttive per l'industria per cui c'era questa borghesia che in qualche modo colta che si interagiva enormemente con gli architetti e che offriva le possibilità di incarichi di ville e di banche e quant'altro e quindi c'era una volontà di tenere forte una scuola di architettura tenere viva è importante una scuola di architettura e legata al movimento moderno evidentemente questa è la differenza essenziale rispetto all'altro polo che invece con la Lisbona più legato ovviamente al potere politico ma è per questo che in questi ambienti diciamo così circolano delle idee e ci sono dei rapporti importanti cioè quando Siza lavora nello studio di Tavora in realtà Tavora seguiva l'architettura l'incherito sopra l'architettura popolare in Portugal e Siza che era presente lì non ha mai partecipato mi ha detto ma comunque ne sentiva parlare cioè se ne sentiva di questo lavoro e quindi lo ha influenzato in modo diretto cosa ci faceva Siza da Tavora praticamente stava facendo un progetto all'interno del parco di Matosinos di Matosinos al Quinter del Conte con Sessau praticamente man mano che il gruppo di lavoro diretto da Tavora strutturava i progetti venivano realizzati un campo da tennis l'ingresso eccetera eccetera Siza come dire usava molto tempo molto tempo a disegnare 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 e alla fine mi ha detto Tavora cioè alla fine lì l'ho dato proprio prenditi il suo incarico e te lo fai tu è stato il primo incarico che ha avuto Siza ancora appena studente o appena laureato e alla fine quando ha visto la realizzazione ovviamente è rimasto contento perché era un risultato straordinario praticamente era l'idea di creare una sorta di sistema spirale avvolgente che cogliesse e strutturasse la parte superiore della collina di questo grande parco non era una semplice piscina era una piattaforma dove ci si doveva arrivare proprio con un sistema topografico avvolgente con un percorso avvolgente si entra dentro la piscina si sale e poi si fa su questa piattaforma ma da questa piattaforma si potrebbe vedere il mare ma lui il mare lo chiude con dei muri bianchi il bianco è il materiale tipico della modernità dell'architettura moderna no? cioè codificato in Germania il bianco e con questo muro chiude il rapporto col mare proprio per negare la vista esattamente il contrario solamente alcuni punti c'è la vista chiude per poter creare una sorta di ambito un ambito in cui ci sono gli alberi c'è l'acqua c'è una piattaforma pochi elementi tutto in cemento quindi è una scelta minimalista e anche in questo caso un concorso che lui vinse qualche anno dopo pochissimo dopo è una sorta di ristorante che si doveva realizzare sul mare a Boa Vista Boa Vista è un luogo importante perché un poeta nobile mi pare che fosse il nome adesso non sono purtroppo sono passati trent'anni una volta i poeti portoghesi li conoscevano a memoria adesso me li sono dimenticati comunque esiste un luogo di una poesia importante in Portogallo che è questo che si rivolge verso l'oceano sostanzialmente e che questo ristorante dovrebbe in qualche modo valorizzare diciamo questo luogo simbolico e quindi crea una sorta di piattaforma anche in questo caso vedete qui c'è un omaggio ovviamente anche se vogliamo a Libera il percorso di salita Libera oppure Malaparte qui bisogna capire chi l'ha inventato quel progetto di scalinata della casa Malaparte però c'è un percorso che parte del parcheggio passa attraverso le scale prima vista verso l'oceano si gira seconda vista verso la casa terza vista e poi si entra dentro quando si entra dentro ecco come si può vedere tutto libero verso le rocce di granito si sale si entra dentro e poi si rivede l'oceano questo qua è la scritta della poesia questa roccia e l'interno tutto in legno ovviamente legno mattone legno scusate e cemento praticamente è il linguaggio brutalista che andava molto negli anni 60 ovviamente io vi faccio vedere delle cose che voi già conoscete perché ovviamente dato che il corso il ciclo di conferenze di lezioni di gravità torno a porto penso che tutti i docenti in un modo in un altro abbiamo fatto vedere queste immagini ma è interessante come questa articolazione cioè questo programma viene disperso proprio all'interno di questo sistema roccioso ma cercando appunto viene proprio costruito a partire da quello che trova e dalla topografia in modo da inglobarla oppure di limitarla e questa articolazione tipica dell'empirismo inglese dell'epoca secondo l'altro progetto che non è molto lontano da lì questo è ancora più interessante perché di fatto chiude il rapporto della strada della strada non si vede più nulla mentre poi da questa questa piscina questa qua sono i gli spogliatoi vengono costruiti in basso cioè si entra all'interno da qua si entra dentro sono gli spogliatoi e poi si esce nella piscina la cosa interessante è che tutto il sistema che viene costruito è sotto la quota stradale quindi dalla strada non si vede nulla e dentro è tutto un percorso come è successo nella casa precedente in cui si entra spazi dilatati si aprono eccetera e questo è un altro elemento importante la grande svolta diciamo così di Siza rispetto agli architetti dell'epoca è un po' in questo senso prende da alto è questa idea di introdurre il soggetto dinamico cioè la percezione del soggetto che entra dentro quello spazio identificato appositamente per lui non è una scatola in cui il soggetto entra la scatola viene pensata in funzione della percezione e del percorso che fa il soggetto e questo appunto è la grande rivoluzione di Siza sostanzialmente e lo si vede negli schizzi in tante altre cose e la cosa interessante altra cosa importante è questo limite che è un limite percettivo ma anche di ambito da un lato c'è la strada dall'altro c'è il rapporto con la piscina e quindi con l'oceano è frequentatissima è una piscina di acqua di mare per bambini e poi questa qua e invece l'altra è per i grandi anche perché voglio dire che quelle zone lì non è che sia una zona semplice da, diciamo l'oceano non è semplice da utilizzare per i ragazzini insomma un po' pericoloso comunque l'altra cosa ovviamente importante è l'uso sempre un po' brutalista il rapporto con il sistema roccioso come appunto vi citavo prima per loro e il rapporto con la roccia granitica è una cosa quasi naturale sorge quasi naturale per loro che succede nel 74 succede una rivoluzione il 25 aprile cade il crollo il regime fascista e si inizia a cercare di risolvere i problemi dei cittadini e tra questi anche le case il problema dell'abitazione il rapporto viene incaricato tutta la scuola nell'insieme di programmare una serie di piccoli interventi a corona intorno al centro città per costruire delle case popolari in forma cooperativa anche gli architetti partecipano in modo interagendo continuamente con le cooperative dei cittadini vengono anche finanziati questi progetti alcuni di questi vengono anche realizzati quali si da non del tutto alcuni sono stati finiti da poco ma la cosa interessante è questa occasione di lavorare in un contesto urbano cosa difficile in quel momento soprattutto per un complesso di abitazione quindi abbastanza grande come incarico tenete presente che all'epoca negli anni 70 gli architetti avevano pochissimi incarichi dallo Stato quasi nulli quasi tutti erano case basta c'era un problema una grande diffidenza devo dire che Siza me l'ha detto spesso lui ha avuto grandi difficoltà con lo studio soprattutto dopo che vennero bloccati questi questi grandi questi progetti che erano progetti sostanzialmente di un'area politica importante di sinistra che aveva preso il potere dopo il fascismo per cui gli architetti erano un po' in qualche modo connotati come se fossero necessariamente contro il capitalismo e quindi i carichi erano difficili da ottenere erano un po' segnati c'è voluto una decina d'anni 10-15 anni per poter un po' recuperare e per istituzionalizzare il ruolo dell'architetto comunque la cosa interessante di questo progetto che cos'è che questo è un sistema molto rigido quello che viene denominato a stecca e che a me non piace per niente come termine comunque è un edificio sono delle case in linea e troviamo e troviamo un punto specifico che è questo dove c'è un muro un muro preesistente penso adesso non so l'importanza di questo muro potrebbe avere un'importanza storica fatto sa che Siza già nello schizzo e poi vedete nella sonometria che fa subito dopo avete presente che Siza ha una tale velocità di schizzo di percezione di immaginazione che progetta sul posto attraverso gli schizzi questo è stato fatto sul momento e questo è lo schizzo che è stato fatto in ufficio dopo la realizzazione è quella cioè non cambia quasi nulla praticamente lui è qui che sta facendo il sopralluogo questi sono le mura appunto di una quinta che è stata occupata e questo muro viene mantenuto quasi come se fosse una sorta di vestigia storica perché è un muro in granito vedete tutto in granito tutto in granito tutti i muri in portogallo sono in granito il nord è portogallo e vengono appunto tenuti questi muri all'interno perché fa anche da riferimento poi il sistema cambia l'altezza del muro ed è anche un passaggio tra l'altro la cosa interessante è appunto questa sensibilità nel raccogliere tutti gli elementi presenti nel contesto non buttare via nulla ma la cosa interessante che cos'è che mentre lui faceva questo progetto c'era un altro architetto nel suo ufficio che si chiamava Soto De Mora che faceva da collaboratore e da studente ancora gli venne incaricato un museo un museo scusate un mercato comunale quello di Braga dove lui era nato quindi aveva un rapporto diretto con se mi ricordo bene penso di sì e lui cosa fa usa lo stesso principio ma costruisce un asse che è una sorta anche di muro materiale classico materiale portugese che è un muro di granito che è questo e quando incrocia le mura romane le mura di contenimento romane storiche di Braga crea un punto di salita chiude due ambiti sono due ambiti diversi quindi questo percorso che è un percorso che attraversa un parco sostanzialmente che è un collegamento tra la città moderna e la città antica che è questo il museo a un punto che è quello delle mura dove avviene qualche cosa c'è un punto di composizione importante eccolo qui queste sono le mura storiche vedete come questa idea quello che mi dice Tavora è che ammira ovviamente come molti ammira Siza e che dice Siza inventa delle cose e poi tutti noi dietro prendiamo a piene mani da quello che lui fa questo è un esempio di come appunto l'idea di mantenere un elemento che in altri casi verrebbe buttato per terra perché non serve assolutamente niente invece diventa l'elemento che domina la scena anche di questa di questo mercato eccolo qui mercato sostanzialmente di periferia quando io conobbi Sottore Mora lui aveva aperto lo studio da qualche anno era già venuto in Italia per un seminario conosceva molto bene gli archivi italiani e leggeva anche tra l'altro rassegna e questo mi disse è il risultato di una lettura il risultato le aveva sollecitato questo tema progettuale è una lettura che aveva fatto di rassegna sugli specchi una superficie specchiante che lui utilizza proprio per nascondere l'ingresso questo è un ingresso di fatto anche in questo caso usa dei muri che non sono muri a secco della verità perché sono tagliati molto bene questo è sempre granito evidentemente le usa una sorta di colla al centro per farli diventare portanti hanno uno spessore abbastanza importante rilevante usa una colla al centro in modo tale che poi non deve fare alcun tipo di rifinitura aggiunto quindi si attacca uno sull'altro ovviamente poi nascosto c'è nascosto l'ingresso ma all'interno usa altri materiali come per esempio l'acciaio o il legno brasiliano usa materiali di grande qualità inizia a usare materiali diversi questo rapporto tra interno e esterno il muro perché dentro praticamente quell'edificio che abbiamo visto prima non è altro che un muro di recinzione di una villa ottocentesca vicino diciamo proprio a porto ma un po' più verso Boa Vista ed è nascosto anche questo ingresso praticamente è un limite si pone come limite ma dietro questo muro c'è l'intero centro culturale quindi è un gioco diciamo così di sottrazione o di costruzione di ambiti e lo fa anche in altre occasioni per esempio usa questi terrazzamenti antichi li lascia praticamente così e rompe un pezzo del del muro di contenimento e ci costruisce una casa dentro e dall'alto non si nuota nulla ora vedete che ci sono degli atteggiamenti progettuali iniziano a nascere che in qualche modo si rapportano con la piscina di Siza piuttosto che Tavora eccetera e si rimandano tra di loro ora io vi sto citando alcune opere sono degli esempi alcune opere di architetti notissimi divenuti addirittura dei Pritzker negli anni successivi che all'epoca avevano pochissimi lavori che io quando li ho conosciuti avevano tutto il tempo la disponibilità di ospitarti nello studio di chiacchierare con te e di parlare di queste cose e di come loro arrivavano ai risultati in certi casi dico la verità se ne parlava anche in modo tranquillo certi risultati provengono anche dai discorsi fatti insieme perché se ne parlava io tra l'altro ho lavorato nello studio di Siza quindi ho lavorato per un anno ma facevo un po' il garzone ovviamente però c'era una crescita continua diciamo così in quell'ambito proprio perché c'era un scambio continuo tra architetti ma anche tra i collaboratori che peraltro venivano da tutto il mondo e appunto questo sistema per esempio la gestione di uno spazio esterno di una villa di Manuel de Oliveira che è stato un cineasta molto recentemente ha oltre 100 anni molto importante in Portogallo anche in questo caso l'uso dei muri è adatto per creare degli ambiti degli ambiti delle differenze differenze e poi con materiali diversi eccetera eccetera questo per certi versi sempre più si avvicina ad un'esigenza quasi di di un uso di piani di materiali analogo a quello che fa Miss Van der Rohe allora non è che lui copia Miss Van der Rohe è che lui ha un'esigenza di usare questi materiali locali con un artigianato che spesso compie anche degli errori di misura ma anche perché le cose si fanno in opera non c'è un progetto definitivo c'è il progetto definitivo ma si deve adattare le situazioni ai ai piccoli dislivelli agli errori se vogliamo di giunti eccetera per cui nella costruzione tra il materiale tradizionale e la costruzione tradizionale e quella invece moderna necessaria evidentemente per i tipi di vetri eccetera ha bisogno di usare un linguaggio e lui usa un linguaggio che è quello più opportuno in questo caso che è quello dei piani dei giunti senza giunti di Miss Van der Rohe e quindi e quindi anche l'esigenza che il muro produca delle differenze molto importanti interno esterno proprietà ambiti diversi la divisione e in questo caso per esempio usa materiali addirittura perché in quell'epoca inizia negli anni 90 inizia la distruzione di questo patrimonio abitativo antico per creare anche possiamo dire una modernità in Portogallo cosa che è avvenuta tra i anni 90 e il 2000 a grosso modo io ho avuto la fortuna di capitare a cavallo tra l'uno e l'altro per cui c'è stato un mondo legato alla tradizione costruttiva che ancora era permanente molto importante si costruiva con i profili che si trovava in commercio non c'erano semilavorati il regno semilavorato è arrivato tardi e a costi notevoli all'inizio però c'era invece una grande quantità di materiali locali per esempio si recuperavano sotto le mora andava a recuperare nelle macerie della demolizione delle case tutto quanto il granito che poteva trovare perché ovviamente lo utilizzava invece come un materiale ricco vedete questo qua è un materiale di scarto che lui lo utilizza come un materiale ricco e la stessa cosa appunto lui si accorge poi spostandosi da Porto a in questo caso vicino a Fatima la Canena o addirittura nel Garve non puoi usare il granito evidentemente perché non c'è devi adattarti a usare per esempio materiali locali per esempio i mattoni o il legno o altri materiali che trova questa è la casa della Canena anche in questo caso c'è una visione di una casa tipo edilizio quasi romano questo è il suo riferimento è una casa romana non molto lontano da lì ma l'idea è di un grande casa a patio ma aperta verso l'esterno cioè esattamente il contrario di quello che viene nelle case a patio perché? perché qui riprende la visione dell'ambito di visione paesagistica cioè la visione verso l'esterno cioè in ogni una sorta di svastica possiamo dire così che porta lo sguardo ogni volta in parti diversi del territorio questa divisione diciamo così di ambiti diversi di visioni diverse di punti di vista diversi non è diciamo è molto diffusa tra si insomma in questo ambiente ma molto evidente perché è stato un riferimento per molti anni perché vi dico che non c'era un gran lavoro erano pochissimi lavori le opere che si realizzavano nella ristrutturazione della di Santa Marigna un antico convento adattato a pausada e poi vi spiegherò meglio il concetto di pausada che invece si venne realizzato da tavola negli anni 70 fino ai 70 inizio anni 80 un lavoro lunghissimo recuperando un antico convento che era incendiato ma recuperando anche tutto il complesso nell'insieme anche il parco circostante esattamente come aveva fatto con Kinter e con Sessau come vedete questo materiale è questa facciata è una facciata che riprende i temi delle facciate delle case che abbiamo visto precedentemente quelle che si trovano nel Portogallo del Nord e anche in Galizia ed è un ampliamento sotterraneo sostanzialmente rispetto a invece la quota normale dell'edificio che è questo questo venne ristrutturato questa grande ala venne ristrutturata completamente la chiesa mi pare che si salvò dall'incendio tutto il parco venne costruito sistemato perché non venne costruito ex novo ma venne sistemato da tavola ma questa questa ala nuova venne realizzata appositamente da lui come si può vedere nel paesaggio sostanzialmente scompare scompare ma sopra abbiamo le piscine e una sorta di grande piattaforma che sarebbe qua sostanzialmente e questo è il sistema appunto del parco sistemato da tavola ecco si vede a dire che tavola aveva una grande sensibilità forse è rimasto comunque inimitato nel campo dei beni culturali è quello che ha portato avanti questa grande battaglia dei beni culturali e del restauro perché non esisteva all'epoca in Portogallo una vera e propria cultura del restauro lui penso che l'abbia cioè è al merito di averla introdotta oltre al fatto di aver introdotto l'importanza di avere mantenere una sensibilità nei confronti del contesto evidentemente anche dei contesti paesagistici e anche quelli architettonici e questo è un grande merito penso nei riguardi di Fernando Tavora perché all'epoca si distruggeva tutto quando sono arrivato lì si è distrutto di tutto tutte le cose più interessanti diciamo a parte i monumenti che l'IPAR che la loro soprintendenza bloccava e restaurava per il resto non c'erano né i piani di recupero né i piani di centri storici tutto ciò è arrivato negli anni fine anni 80 inizio anni 90 ma forse anche per questo motivo gli venne incaricata una serie di restauri importanti e la cosa che insomma è l'opera più esemplificativa del suo lavoro è la sistemazione del centro storico di Guimarães lui tra l'altro la sua famiglia una famiglia nobile di Guimarães ha una chinta proprio nella città di Guimarães aveva una chinta adesso penso abitata dai figli un figlio architetto Bernardo Tavora e secondo me questa è forse l'opera più importante perché in pratica gli è stato dato l'incarico di sistemare la pavimentazione del tutto il centro storico di Guimarães che era ovviamente trattato in modo orribile con asfalto molto degradato ora tutto questo lavoro certosino di rilevare centimetro per centimetro guardate tutte le imposte di tutti i negozi no? e ricostruire una pavimentazione unitaria con degli scarti minimi di centimetri è una cosa impressionante la qualità del lavoro impressionante usando soprattutto materiali locali che appunto è il granito mantenendo quindi una coerenza complessiva dell'immagine di questa città che è impressionante e possiamo dire che è analoga solamente a Santiago di Compustella che è una città importante la capitale della Galizia non proprio la capitale ma la capitale simbolica diciamo storica della Galizia religiosa più che altro che ha una caratteristica simile cioè stesse caratteristiche architettoniche stesso tipo di clima ovviamente stesso materiale perché è in Galizia che è diciamo così come ambiente analogo proprio a Guimarães dopo ovviamente questo lavoro di sistemazione del praticamente un architetto invisibile con semplici schemi riprende la tradizione fin dove possibile eccetera e mantiene una situazione fa ritornare a me in una situazione che probabilmente non era mai stata così ma sicuramente appropriata ai giorni nostri nei confronti di un contesto di questo tipo allora noi abbiamo parlato sempre del del granito come materiale monolitico ma attenzione c'è chi ci gioca su questo doppio senso uno di questi ovviamente è Siza Siza è non solo è un architetto ma ha in mano una tale padronanza dell'architettura che gioca anche con i doppi sensi questa è un'opera a Santiago di Compustella quindi come materiale assolutamente adeguato ma in questo caso lo gioca come forma di rivestimento questo è un rivestimento che sembra monolitico cioè questi pezzi vengono tagliati uno a uno vedete e sembrano monolitici in realtà sono delle rivestimenti sono dei sono dei muri sono dei muri sono delle pareti ventilate perché perché nel frattempo Siza che è stato forse l'architetto per primo più internazionale di tutti viaggiando conoscendo molti architetti in Germania in Italia eccetera e viene iniziato a comprendere quanto i sistemi costruttivi stavano andando avanti cioè l'introduce è stato uno degli architetti che ha introdotto in Portogallo per esempio mi ricordo i sistemi a cappotto l'isolamento a cappotto che loro per motivi climatici forse neanche utilizzavano lui è molto tecnologico Siza anche se apparentemente non sembra è molto dentro tutto il sistema delle costruzioni e ovviamente li introduce in Portogallo e in qualche modo lo fa diventare anche adeguandoli alle situazioni anche dei come dire degli elementi di progettazione come dire l'innovazione diventa progettazione per esempio tutto l'uso del cartongesso di cui si parla dei suoi lavori così come rivestimenti sono opere ovviamente legate agli anni 90 dove lui come dice nota giustamente sotto le mora si occupa della scultura diciamo una vera e propria scultura in cemento armato una sorta di volume e poi tutto il resto è un rivestimento interno o esterno e questo è straordinario alcune opere tipo il museo di 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 si vede chiaramente ma lo vediamo anche nelle scuole principalmente in alcune scuole a quella di Avero dove alcuni sistemi addirittura sbalzo cioè sono delle invenzioni formali straordinarie tutte quante in cemento armato perché quello gli permetteva di usarlo in termino scultorio di fare delle sculture sostanzialmente quello che in questo caso invece un riferimento importante molto probabilmente è il CCB il centro culturale di Belem che Gregotti costruiva proprio in quel periodo dove appunto l'investimento è tutto quanto fatto in facciata ventilata con blocchi in marmo di secondo me di Cascais ma non sono sicuro dunque quindi e questo discorso del monolite del granito usato in monomonolitico è ancora più evidente questo questo blocco che è una sorta di piramide voluta una figura geometrica pura nasconde in realtà un lanternino interno questo è un lanternino di fatto non è del tutto gratuito però questa figura pura sta a significare che è una piramide monolitica in realtà mette in evidenza che cosa che questa è una costruzione del tutto formale ed è rivestita con dei blocchi appunto in forse solo questo è monolitico la parte superiore tutto il resto è rivestimento ma disegnato pezzo per pezzo è fatto in cantiere o forse addirittura fatto in cava perché perché come dicevo prima è un materiale talmente rifuso dal punto di vista costruttivo che le cave hanno funzionato benissimo dal punto di vista artigianale finché ero io addirittura andavo col figlio di Tavora sulle colline intorno nel Migno a Ponte di Lima mi sa che in quelle zone a cercare i graniti perché i venditori produttori di granito si mettevano lungo le scale sulle strade e facevano vedere che granito vendevano proprio li mettevano lì sulla strada i blocchi di granito diciamo abbiamo questo granito piuttosto che quell'altro e poi gli architetti andavano lì a cercarselo come dire con i disegni in mano si cercavano il granito che gli serviva questo secondo me è scomparso anche in Portogallo secondo me in Italia c'erano i anni 50 adesso è tutto quanto sul catalogo ma perché questa interesse non tanto nel monolitico quanto nell'uso del rivestimento questa cosa persizza questo interesse verso il rivestimento ovviamente è un elemento importante è inutile che vi spiego la storia del rivestimento che va da Semper in giù che passa attraverso Adolf Loos poi anche Miss e quanti altri sull'uso appunto del rivestimento in architettura cioè c'è una storia dietro che lui trae della grande tradizione mitteleuropea cioè lui è profondamente legato alla tradizione dell'architettura ma anche ovviamente al luogo dove lui opera e è inutile dirvi appunto un riferimento alle citazioni perché lui cita anche in modo diretto alcune opere di architettura importante come appunto Adolf Loos in questo caso o anche altri architetti delle vanguardie del movimento moderno ma sempre molto una citazione sono citazioni molto colte come vedete qua anche in questo caso c'è un rivestimento o rivestimento esterno addirittura solo parziale che sottolinea il percorso esterno anche questo in marmo per l'ingresso principale della banca questo è l'ingresso della banca allora perché perché il materiale è un materiale molto molto elegante il marmo il marmo definisce il rivestimento in marmo in portogallo molto molto usato soprattutto negli interni mentre l'esterno è in granito l'interno invece è legno e marmo le case tipiche portoghese sono quelle diciamo che tra l'altro il marmo viene usato anche in modo spesso anche monolitico a volte anche i lavandini sono dei blocchi di marmo di paio di metri questo lo si può vedere forse anche a Sintra nel palazzo reale di Sintra ma anche usa le piastrelle questo per esempio proprio per recuperare la tradizione portoghese delle lezulegios e questo padiglione del portogallo è rivestito completamente in piastrelle ma inoltre c'è questa che sembra una grande tenda in realtà non è altro che una sorta di getto in cemento armato fatto io mi ricordo ho parlato con l'ingegnere perché ci è voluto un po' di tempo per pensarlo fatto attraverso dei cavi che vengono immersi nel getto in cemento armato e sono tesi in qualche modo vengono aggiustati e vengono tesi questo è completamente libera vedete questa parte sotto l'attacco viene gestito da dei cavi per dire che lui appunto quando lavora lavora con altre tecnologie in realtà con ingegneri di altissimo prestigio che gli forniscono anche delle diciamo delle conferme su delle forme che lui vuole ottenere e poi il materiale questo materiale tipico portoghese che è il marmo di estremorso il marmo di allanteggio il marmo rosa tipico che ha questa forma qui molto analogo al marmo di Carrara come tipo di consistenza ma che presenta delle venature rosse rosa e viene usato normalmente sui banconi eccetera vi parlo di storia no? perché la modernità che è arrivata ovviamente diciamo non è così attento a queste differenze ma questa attenzione ai materiali ai materiali naturali soprattutto è una cosa che sì c'è nella tradizione se vogliamo però è vero che la modernità un po' ha fatto fuori tutto questo rapporto con la tradizione col granito eccetera eccetera si potrebbe infatti molti architetti di quel periodo soprattutto della scuola di Sbona questa attenzione per il materiale non ce l'avevano cioè loro usavano quello che trova mattone c'è nel tornato materiali così abbastanza comuni non c'era questa voglia di voglia di questo interesse di entrare oppure di costruirsi un'identità di persistenza nei confronti del materiale storicamente utilizzato dagli architetti era diciamo Portogallo ha avuto diverse diciamo e poliedrico e non è che esista il Portogallo esistono tanti Portogalli quanti sono gli architetti portoghesi diciamo questo ma molti della scuola non della scuola di Porto pensavano a un altro modo di fare l'architettura per esempio postmoderno cioè l'epoca degli anni 70 80 diciamo dall'80 in poi è stato sostanzialmente postmoderno abbiamo avuto degli esempi straordinari importanti io non sono d'accordo ma comunque che hanno connotato la scena urbana di Lisbona anche di Porto con opera molto fantasiose diciamo così la solidità diciamo questo rapporto continua della modernità con la storia lo si vede solamente nelle opere di Porto dopo si è steso in alcuni altri architetti del resto del Portogallo anche se poi bisogna dire anche questo questa solidità si è mantenuta tuttora pur non relazionandosi necessariamente con i materiali locali cioè c'è stato un momento in cui c'era questa sovrapposizione di due mondi quello artigianale e quello industriale del grande commercio eccetera in cui c'era una fusione sotto le mora e quelle opere che abbiamo visto era molto espressiva in questo senso cioè è riuscita a costruire delle opere mettendo insieme granito assieme al vetro che veniva dalla Francia e l'acciaio che arriva dalla Germania e che ne so il giunto dal Belgio tutto questo diventava un sistema linguistico no? ma questa sua attenzione questa sua voglia di mantenere una coerenza solidità col materiale nasce non tanto e non solo da appunto questa storia ma anche dal fatto di avvicinarsi a una generazione interessata ad altre esperienze artistiche come per esempio il minimalismo americano chi ha nozioni perché ovviamente sottrimora anche Sisa eccetera ovviamente è taura gente che legge che frequenta mostra eccetera e in qualche modo ha riuscito a traslare un certo interesse nei confronti di un modo di lavorare dell'arte nei confronti del materiale in particolare degli scultori americani scultori americani che attenzione riprendono in qualche modo diciamo così traducono in una chiave scultoria quello che era il minimalismo invece dell'architettura e in particolare l'architettura di Mies van der Rohe il quale si trasferisce nella fine nella seconda parte degli anni 30 in Germania dalla Germania nel 33 nello specific quando chiude il Bauhaus si trasferisce in America e apre uno studio e influenza tantissimo gli architetti locali al di là di tanti altri architetti tedeschi che si trasferiscono e che più o meno la pensano a quel modo ma soprattutto a cavallo della guerra nel subito dopo guerra molti giovani artisti americani provano un certo interesse nei confronti di oggetti che la produzione industriale stava iniziando a fare quindi diciamo l'idea di una certa rapporto dell'industria con la forma si consolida nell'oggetto artistico che di fatto sono opere che sono sostanzialmente minimali proprio perché la loro forma è legata al mondo dell'industria e al design questo è Donald Jad per esempio ma soprattutto per quanto riguarda un certo interesse secondo me dovuto a più Calandre queste sono alcune opere recenti però fanno vedere un po' come l'idea di Calandre è quella di prendere quel materiale e usarlo nel modo più vero possibile in modo costruttivo farlo far comprendere che la sua forma dipende dalla sua struttura questo è un laminato di zinco per esempio giustamente è rotolato queste invece sono le piastre che mi pare che sono in ardesia e quindi vengono messe in orizzontale qui invece appunto abbiamo un sistema trilitico perché è possibile farlo tagliando il legno in modo a taglio così da poter essere funzionale a flessione a trazione e quant'altro cioè capite che questo sistema è generato da una ricerca di tipo formale che vuole rappresentare la verità la verità dei materiali delle cose e questo se noi lo trasferiamo nel mondo dell'architettura questo è Richard Serra addirittura che lui è ancora più interessante però lui genera degli spazi sostanzialmente proprio dividendoli positivo o negativo un lato o l'altro attraverso materiali di questo tipo e vediamo come c'è un'associazione un'affinità tra un modo di vedere l'architettura e un modo di vedere il mondo della scultura scultura ambientale scultura minimalista che poi si traduce per Sottrimora per esempio nella ricerca di formalizzazione di elementi formali che possono essere utilizzati nella costruzione di suoi modelli per l'architettura le facciate degli edifici questi per esempio non so se sono foto scattate da lui adesso non me lo ricordo ma vedete questo accattastamento sono simili alle opere di Richard Serra oppure il modo di mettere insieme dei materiali di accattastare lo vediamo lo vediamo per esempio questi sono i lavori degli anni 90 dipartimento di geologia anche qui c'è un'ironia di fondo l'ironia di Siza l'abbiamo vista l'ironia di Sottrimora che gioca attorno anche il senso un dipartimento di geologia che mette in evidenza che cosa? un marmo particolare del Portogallo marmo arancione rosa eccetera che viene usato in forma di brisolei normalmente i brisolei sono metallici e qui invece li usa in modo assolutamente come dire ironico se vogliamo perché appunto si parla di un dipartimento di geologia oppure la Torre a Boa Vista dove questo nasce dall'idea di un sistema di accattastamento tutta quanta fatta in granito è come una grande cattastra di granito sostanzialmente granito come dicevo prima che a partire appunto dall'epoca dell'incherito non è cambiato per nulla cioè le cave esistevano ancora quindi il costo era basso tanto valeva fare un edificio in granito sapete ovviamente che in Portogallo si usa una calzata che però è fatta con non è granito ma è non mi ricordo vabbè una regaria probabilmente e tutti i pavimenti in Portogallo in tutte le strade tutte le piazze sono tutte rivestite con questo materiale la calzata portuguesa famosa mentre le strade hanno blocchetti di granito tanto è vero che è talmente importante per cui è stata una grande occasione perché ovviamente Sottomora ha avuto delle grandi occasioni e devo dire ha lavorato tantissimo soffrendo perché ha lavorato tanto per raggiungere degli obiettivi le opere Sottomora non tutte sono semplici ma anche Sise e tanti altri architetti cioè ci sono delle idee ma per raggiungere la finalità ci vogliono anni perché le problematiche sono analiche rispetto all'interno non è che lì sia tutto più semplice anche lì per fare un'opera ci vuole molto tempo avvicinarsi parlare discutere cioè c'è una quantità le aziende che falliscono cioè alla fine problemi ci sono ma con insistenza con insistenza da questa cava di granito è riuscito a ricavare un campo di calcio uno stadio lo stadio del Braga infatti ci ha costruito dentro praticamente lo ha sagomato e poi ci ha costruito lo ha fatto diventare un grande plateau questa è una piazza che sotto è sotterranea è completamente libera la gente passa sotto sopra invece c'è un campo di calcio con uno strato di 80 centimetri una sorta di piattaforma verde sopra un sistema costruttivo praticamente a sbalzo come questo che si insinua all'interno della cava lo lato positivo che cos'è? che un pezzo di cava comunque rimane e viene utilizzato come sfondo ecco questo risultato come sfondo della sua architettura ecco qui praticamente sono due grandi ale da un lato poi è aperto e invece sull'altro lato c'è appunto un pezzo dell'antica cava peraltro l'acqua che arriva da queste grandi tende che coprono lo stadio le due grandi scalinate le due grandi gradonate viene raccolta e viene posta all'interno di un serbatoio che serve per l'irrigazione del campo di calcio ripeto questo questo prato verde è sospeso sotto c'è una piazza ed eccolo che appunto qui il sistema d'acqua uno si domanda che cos'è questo grande elemento che sporge non è altro che un imbuto per raccogliere l'acqua e portarla nella distribuzione ma vedete come sono delle occasioni ogni elemento potrebbe essere risolto in modo diverso ma qui diventa architettonico e in questo caso anche il fianco del campo è una parete rocciosa che fa da fondo e ovviamente anche da quinta diciamo così scenografica così come la ristrutturazione di questa pausada che sono delle antiche antichi monumenti storici castelli o conventi che sono stati abbandonati distrutti che in qualche modo proprio perché hanno delle caratteristiche di una qualità dei materiali come appunto il fatto che siano fatti completamente in granito che permettono una nuova utilizzazione non crollano ecco cioè si deperisce il sistema lineo mentre tutto il resto rimane sostanzialmente integro e rimangono dei grandi delle grandi rovine e in molti casi sono stati utilizzati appunto dall'agenzia delle pausadas portugese che sono riuscite a creare una sorta di catena di questi monumenti facendoli ristrutturare da architetti importanti che tutti quanti noi conosciamo infatti vedete la caratteristica che cos'è che rimane una rovina infatti sopra sotto le mora lascia anzi ci mette ovviamente questa rovina viene ricostruita completamente eccetera ce la mette un tetto verde come se fosse una sorta di rovina ce la fa apparire una rovina vedete anche tutti i seramenti che sono scomparsa tutti questi seramenti scompaiono non si notano proprio per l'idea da fuori di trovarci in mezzo a una rovina si mantiene questo sapore ma ogni tanto ci sono degli elementi come appunto la scala eccetera che utilizzano il linguaggio anche in questo caso un monoliter di granito quindi il linguaggio antico anche questo è un riferimento ad Albini per esempio cioè noi abbiamo abbiamo degli elementi che emergono ma che comunque appaiono anche quelli come pezzi di un sistema vedete questo qua è Corten che ha dilavato una sorta di ruggine lungo tutta la parete per cui rimane una dimensione antica e tutto il sistema in apparenza sembra abbandonato in realtà dentro è tutto tecnologico questa parte inferiore sotto c'è un intero sistema tecnologico in caldaie cucine e quant'altro ma molti altri ovviamente architetti portoghesi hanno subito questo fascino di Siza ovviamente della scuola di Porto di Tavora Tavora ha avuto come dire ha avuto una grande importanza in Portogallo proprio perché questo rapporto col contesto rapporto con il luogo rapporto col paesaggio lui aveva una grande sensibilità nei confronti del paesaggio in qualche modo in qualche modo ha dominato o meglio ha coinvolto una parte almeno importante rilevante degli architetti portoghesi ad avvicinarsi a dei temi che sono ormai diventati comuni se vogliamo ma che all'epoca assolutamente quasi per nulla se ne parlava e quindi diciamo così questo che possiamo dire vicinanza di temi ha coinvolto molti giovani architetti tra cui appunto in questo caso Cariglio Agranza questa è una bellissima posada invece nel sud a Crato non inteso Forte Rosa che è una bellissima ha mantenuto anche in questo caso una situazione a sapore antico introducendo tutti gli elementi di novità ovviamente necessari così come questo questa operazione che sostanzialmente è una ricostruzione ideale di una casa araba nel castello di San Jorge a Lisbona in questo caso il rapporto diretto e con i resti archeologici abbiamo ovviamente in termini di linguaggio un linguaggio che ormai è molto internazionalizzato con Manuel Aires Matteus i fratelli Matteus ex collaboratori dello studio di Gonzalo Birne così anche come Gonzalo Birne stesso penso che lui abbia avuto una grande influenza di Tavola soprattutto nei confronti del rapporto con il contesto e con i monumenti storici ha fatto delle grandi opere in Portogallo a riguardo e poi la cosa interessante che forse in questo momento mi interessa di più è questo connubio con l'architettura del paesaggio che ha avuto anche una storia separata se vogliamo dall'architettura perché proprio nasce in una dimensione anche disciplinare diversa ma che trova un connubio notevole tra gli architetti che si occupano dell'architettura tenendo in considerazione il luogo e i paesaggisti che di fatti del luogo sono quelli che diciamo così lo modificano in tutti gli aspetti dal punto di vista anche dei giardini dei parchi ma anche gli spazi pubblici e quant'altro e questo connubio è emerso in molti casi con quelle che potremmo considerare delle collaborazioni notevoli per esempio tra John Nunes e Gonzalo Birne oppure tra Siza e tra Siza o Carillo e Grassa e John Gomez da Silva che è un architetto che ha lavorato perché si è anche diplomato lì a Evora e che ha curato il parco di Malaghera della grande operazione della chinta da Malaghera ideata possiamo dire così da Siza e quindi è un cammino cammino che sta andando avanti con delle solide basi c'è da dire che molti di loro sono riconosciuti a livello internazionale ovviamente il linguaggio si è sviluppato si è internazionalizzato però rimane fondamentalmente radicato dei principi questi principi provengono proprio da quell'esperienza bene con questo finito vi ringrazio e se c'è qualche domanda sono qui a vostra disposizione grazie mille professore vediamo se non so se qualche studente ha qualche domanda da fare grazie Antonio per questo bel contributo per questa lezione che hai fatto che sembra rendere onore al titolo di questo ciclo di conferenze partendo da Porto per studiare l'architettura abbiamo visto come dalla tradizione dalla tradizione locale si è arrivati poi ai linguaggi moderni si è arrivati poi a estendere questi linguaggi moderni e coinvolgere anche orizzonti più larghi di quelli che sono quelli stretti magari della città di Porto ecco da quella città è nata poi una scuola universalmente risposta come una delle scuole che ha dato il risultato più importante nella seconda secolo XII grazie ecco io vorrei dare la parola che vuole imporre non ci sono interventi prof vorrei fare una domanda Carlo Cosu posso? prego sì volevo fare una domanda forse anche un po' banale però magari una scusa per rubarle ancora qualche parola su questo tema che mi è venuta in mente quando ha descritto questa situazione in cui gli artigiani di cava si mettevano lungo la strada per esporre diciamo i vari tipi di graniti e volevo chiederle se nel caso di questi progettisti nasce prima il disegno forte del fatto che diciamo c'era una una certa libertà data da questa produzione di granito diciamo questa abilità nel lavorarlo oppure diciamo è il granito che un po' spinge a disegnare in un certo modo questi progettisti loro hanno già in mente il progetto sanno che verranno usati dei graniti e vanno a cercarsi il granito che gli interessa ma sanno già dove andarlo a prendere sanno già che cosa fare non è che loro trovano delle cose e poi dopo le mettono dentro il progetto o meglio devo dire che Sottremora un po' l'ha fatto nel senso che sapeva che un muro doveva essere fatto in granito e poi andava a cercarsi i pezzi che gli interessavano nelle discariche di granito sceglieva quei pezzi e li metteva nel posto giusto ma insomma ecco questo qua è l'unica libertà penso grazie altre domande sì volevo dire questo che ovviamente come ho detto all'inizio questo qua è una testimonianza è un racconto più che una conferenza tra virgolette non sono cose studiate sono cose che ho raccolto negli anni sono sensazioni battute conoscenze all'inizio era una ricerca vera e propria e c'era della documentazione purtroppo all'inizio quando volevo pubblicare questa ricerca non ho avuto le porte aperte delle case editrici ed è stato un peccato perché poi era materiale di prima mano raccolto mentre ero lì in quel momento in cui forse si poteva anche produrre qualche cosa che dava un senso diciamo così alla mia alla mia interpretazione all'epoca poi è vero successivamente vado spesso in Portogallo quindi tutto questo percorso l'ho vissuto dall'inizio a oggi conosco bene le situazioni che sono sviluppate e mi sono sentito di creare questa specie di congettura diciamo così possiamo dire rispetto a come questa presenza della diciamo presenza importante del luogo che è fatto di tettonica nel vero senso della parola perché i paesaggi sono fatti così quanto questo può aver influito in quel momento nel nel linguaggio architettonico come dicevo prima è una congettura molti dati forse o molte informazioni potrebbero non essere corrette potrebbe esserci qualcuno che mi dice no guarda che è diverso ma vi dico è una testimonianza diretta nel senso che i rapporti sono quelli diretti avuti con gli architetti cioè non ho letto altro di altri sono informazioni dirette e sono diciamo la costruzione del pensiero attorno a questa cosa che nasce proprio dalla conoscenza diretta molti altri potrebbero avere opinioni completamente diverse quindi accetto qualsiasi critica riguardo questa mia costruzione però attualmente devo dire che nasce un po' ovviamente da discorsi ma anche da libri fatti da Fremton per esempio Fremton è un grande ma molti altri critici hanno lavorato su le opere di Sottolemore di Siddet eccetera eccetera e hanno prodotto devo dire che certamente un'influenza da loro l'avrò avuto sicuramente essendo arrivato lì da giovanissimo sono capitato per caso lì in un momento particolare e ho conosciuto queste persone che mi hanno fatto capire determinate cose quella volta lì all'epoca ho fatto una larga diffusione anche di queste informazioni di quello che pensavo di aver trovato interessante bisogna dire che quel paradigma della tra virgoletta della scuola di Porto che vede sempre questa presenza di Siza sotto le mora e tavola che è un po' circolare diciamo così è vera è stata vera è stata utile come paradigma però mi sembra che negli anni dopo trent'anni nessuno l'abbia messo in discussione o meglio che non ci sia un modo diverso di affrontare la questione legata proprio alla scuola di Porto o meglio agli architetti che una vera e propria scuola non c'era o meglio c'era un gruppo di architetti che si riconosceva come un gruppo di amici riconoscenti che lavoravano attorno alle stesse cose che discutevano cosa che adesso praticamente non c'è perché è un altro mondo all'epoca se eri interessato all'architettura eri lì in quel gruppo se no non c'eri adesso invece no adesso è diverso anche questa idea il concetto di scuola di Porto sotto le mora dice che non esiste nessuna scuola di Porto secondo me ha anche ragione nel senso che appunto le scuole invece sono qualche cosa di molto statico che costruiscono alcuni concetti che poi rimangono così mentre quelli che vi ho raccontato sono stati dei concetti in movimento cioè non esiste quel modo di fare architettura esiste un modo di avvicinarsi all'architettura che in quel momento era fatta così poi si è evoluto e si evolve tuttora infatti questa ultima immagine di questa strada di questo ponte che va verso la cava è una riscoperta del passato ma con una visione anche se vogliamo al contrario un po' di qualche cosa che ci aspetta dietro l'angolo di cosa sarà del futuro dell'architettura è un momento una situazione incerta cioè noi abbiamo avuto a Porto delle situazioni anche non so la presenza di Rencolas con la Casa della Musica che ha stravolto completamente un immaginario locale di quello che era l'architettura moderna è stata accolta anche dagli architetti locali in modo positivo io devo dire che non mi sembra un'opera ma non per altro non per l'immagine quanto altro a parte il fatto che ha distrutto un posto stupendo che c'era che secondo me poteva anche rimanere lì che era la stazione di tram che a Milano ce li teniamo molto ben conservati che sono opere importanti comunque a parte quello di fatto l'interno si vede che ci sono alcuni problemi della forma c'è un rapporto formale nei confronti dello spazio interno che non funziona chiaramente perché molti spazi sono abbandonati sono inutilizzabili quando la forma esterna in un certo modo la forma interna deve essere diversa non so non voglio entrare nelle polemiche architettoniche ritengo che comunque ci sono delle contraddizioni ecco non è tutto lineare il percorso dell'architettura portoghese e poi non è tutto unitario vi ho raccontato delle esperienze singole ci sono molti altri architetti anche di Porto secondo me anche molto interessanti che non ho citato che hanno fatto dei percorsi magari diversi diciamo questo è più diciamo quelli che vi ho raccontato sono quelli che hanno avuto maggiore rapporto tra di loro se vogliamo proprio perché sono amici e soprattutto tra i tre c'è un rapporto di collaborazione Siza e Sotomora continuano ad avere delle collaborazioni ogni tanto ma soprattutto erano amici quindi si scambiano le idee molte cose come avete visto sono temi che ricorrenti tra di loro ma in tutta l'architettura portoghese grosso modo questi temi poi si sono recuperati ma come avete visto poi hanno a che fare con il mondo della cultura architettonica in senso lato ma anche la cultura artistica quindi molto ampio allora ho sollecitato curiosità o ci sono altri interventi prendiamone uno a caso Giovanni Angius sì professore mi ha suscitato molta curiosità il trattamento del granito operato da Sotto De Mura quella interporre quell'ingresso specchiato insomma che sembrava come se mandasse un po' la linea prospettica quasi verso l'infinito insomma sì è una constatazione è vero è interessante perché allora il discorso è che non so se l'ha usato un'altra altre volte lui sperimenta tantissimo bisogna dire questo che io non ho messo altri esempi lui ha usato per esempio l'ondulato metallico ha usato lateralmente per coprire i muri anche anche altro materiale che si trova in Portogallo tipo l'ardesia cioè ho usato parecchi materiali ma perché perché lui è una generazione nuova diciamo così ha legato molti rapporti con il mondo degli altri degli altri europei della sua generazione come Cipperfield per esempio come Erzo de Meron lui è molto vicino a Erzo de Meron i quali sono dei grandi sperimentatori o Miragli e se quanti altri quindi di quella generazione che in qualche modo condivideva le esperienze progettuali nuove diciamo così in questo senso ha usato il vetro specchio che era una novità per Porto anzi non proprio perché per esempio c'era un progetto di Siza che non so se è poi stato realizzato di Rua Il Defonso che si trova praticamente vicino alla stazione ferroviaria dove arriva praticamente l'asse stradale col ponte di metallo e lì era previsto un intervento Siza aveva fatto un progetto che prevedeva vetri a specchio che sembra strano ma perché in quel punto specifico rifletteva il granito che si trovava di fronte o la città che si trovava di fronte comunque c'era un interesse a riflettere qualche cosa cioè non era l'uso dello specchio così come dire anche in questo caso tutti i materiali non sono banali c'è il modo banale di usarli o un modo articolato evidentemente anche consapevole di usarli non è che il vetro specchio non si possa usare cioè non c'è nessuno che ci vieta di usare nessun tipo di materiale bisogna saperlo usare in modo intenzionale questa è la lezione cioè quello che volevo farci vedere con quel vetro specchio era il granito ovviamente era questa continuità del granito e anche diciamo così questo aspetto un po' ironico che era sempre sotto le more cioè quello di far intravedere quello che ci potrebbe essere dietro infatti quel muro di granito dentro si vedono ancora c'è un gioco quando il livello diciamo così dell'architettura diventa sofisticato e alto diventa anche divertente giocare e questo è il messaggio che ci vuole fare capire attraverso quel progetto ho capito la ringrazio Paolo Piras anche se siamo ormai alle 7 qualcosa da dire? non saprei esattamente cosa chiedere mi sono fermato all'inizio che i depositi di grano hanno suscitato un po' di interesse non sento niente non si sente? male devi alzare la voce così è meglio? sì prova prova no agli inizi mi ha suscitato un po' di interesse la domanda che ha fatto il professore sulla croce dei granai ma era una curiosità ho cercato di approfondire non ho provato quasi niente tranne il fatto che quella croce indica proprio il grano nel senso che da un passaggio sul Vangelo visto che il grano viene identificato con la croce in realtà nei nostri granai invece veniva posto proprio come limite di ammasso però mi sembra un sistema diverso perché questi sono posizionati in quota e hanno un'altezza cioè hanno i pilastri in granito stesso la struttura completamente in granito che tiene fresco l'ambiente e fa sì che il grano non vada male insomma una situazione un po' curiosa diversa dai nostri metodi di ammassare il grano se così vogliamo mentre da noi la croce che c'è all'interno di molti granai serviva come limite proprio di ammasso dentro quel volume era giusto a proposito dei pinieros cioè dei granai bisogna dire che questi poggiavano su dei rocchi di granito dalla forma particolare un po' a fungo no? E quella maniera di fare la costruzione sopra questi funghi è utilizzata anche in Val d'Aosta nelle Baite e questi elementi servono e in Val d'Aosta vengono chiamati Bolero questi elementi servono per impedire la risalita dei topi e su questi elementi qua poi Carlo Mollino e Franco Albini hanno dato delle loro interpretazioni particolari no? Sì nella situazione sciistica Mollino e Albini nella casa di Fabelloni vabbè abbiamo superato le 7 ringraziamo ancora una volta tanto Antonio Ingerillo per questo bellissimo contributo cercheremo di essere diciamo così più efficienti nella nella condivisione poi di queste elezioni perché ci sono stati dei problemi purtroppo con il link però insomma vedremo un pochettino questo Teams ogni tanto presenta delle asperità ma comunque grazie Antonio Ingerillo grazie e mi raccomando mi raccomando stati bene perché sappiamo che sei in quarantena anche lì a Gorizia di Malanno che non si capisce siamo in quarantena ecco grazie ciao a tutti arrivederci 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 grazie arrivederci riesce a trasferire su YouTube tutto quanto sì faccio ora professore grazie grazie così anche altri indifferiti potranno seguire grazie mille arrivederci arrivederci grazie